Le visite didattiche sono un elemento fondamentale all'interno del piano didattico che sviluppiamo nei BNTS in Accademia Symposium. Qual è l'importanza di fare una visita in un'azienda? Oggi per esempio si è stati in Barone Pizzini. È quello di vedere in atto una visita didattica, per esempio nel caso del corso di Marketing e Turismo del Vino, capirne quali sono gli elementi di forza, andare a capire anche con chi ci guida quali sono gli elementi di debolezza e quindi imparare sul campo. Tutto questo è propedeutico per lo stage, che i ragazzi faranno poi nel periodo estivo, ma è anche proprio un'occasione utile perché i ragazzi possano immedesimarsi in una loro futura professione e capire se è il mestiere che vogliono fare o meno. Ho conosciuto questo corso di Marketing e Turismo del Vino tramite i social network Instagram e sono qua per imparare ad accogliere anche nel nostro territorio, l'Oltreo Papavese, i clienti nelle cantine. Io sono figlio di un proprietario di un'azienda vitivinicola e vorrei nel mio futuro diventare un consulente per quanto riguarda le accoglienze nel settore viticolonologico e soprattutto nell'azienda di famiglia. Sono qua, sto frequentando il primo anno in Accademia Symposium, ormai è già il secondo mese che ho iniziato e mi trovo veramente bene anche perché i miei compagni sono tutti nel settore, comunque appassionati del settore vino e di accoglienza nelle cantine e quindi mi sento molto anche spinto a migliorare me stesso, a migliorare il modo di comunicare con le altre persone e quindi sono pronto a migliorarmi in tutto e per tutto. L'obiettivo di questo corso è formare delle figure professionali che siano in grado di promuovere e comunicare i prodotti vitivinicoli ed enoturistici. Perché digital? Perché ormai il web come il digitale è appunto diventato pervasivo, è diventato parte integrante delle aziende vitivinicole nel mondo della Franciacorta ma anche fuori dalla Franciacorta e dare gli strumenti adeguati e un linguaggio tecnico adeguato agli studenti è fondamentale per inserirli in un mondo del lavoro preparati. Il corso di marketing e turismo del vino è stato il primo corso con cui abbiamo iniziato l'ITS in Accademia Symposium. Le aziende chiedono questi ragazzi per funzioni differenti. I ragazzi infatti trovano poi occupazione nell'ambito dell'ospitalità in cantina, quindi tutto il settore delle visite guidate in cantina e dell'incoming in questo ambito, ma anche si trova molta richiesta nell'ambito della comunicazione delle aziende, comunicazione che può essere di tipo digitale o tradizionale. E quindi infine un altro settore su cui vediamo che i nostri ragazzi sono particolarmente richiesti è il settore della vendita. Per questo in Accademia insegniamo in questo corso di marketing e turismo del vino tutta una parte legata al prodotto, quindi degustazione, enologie e viticoltura, ma poi anche tutti degli aspetti legati al marketing di tipo digitale e tradizionale e tutto poi un settore dei moduli didattici che riguardano la comunicazione e il tema della vendita. Tutto questo viene fatto in italiano, ma poi ci sono anche una serie di moduli didattici in lingua inglese perché è sempre di più il mondo del vino internazionale e chiede competenze internazionali. Grazie.